Good morning Genova. Buongiorno, non solo a Genova, good morning anche un po' più in là. Mi hanno voluto dire infatti che in Val Bormida, che è alle spalle di Savona e che arriva quasi a incunearsi all'inizio del Piemonte, delle Langhe, che ci sono 42.000 persone che in questo momento non hanno un ospedale. Non hanno un ospedale perché l'ospedale di Cairo Montenotte è stato chiuso al momento per concentrare sul San Paolo di Savona tutte le necessità che possono presentarsi. Però giustamente 42.000 persone senza un presidio sono un po' tante e i rischi non riguardano soltanto il coronavirus. Si può cadere, farsi male, rompersi un braccio anche in casa, questo, anche senza uscire di casa. Si può sentirsi male, avere un infarto e c'è bisogno quindi di fare qualche cosa. Cosa hanno fatto? Le persone hanno protestato giustamente, i sindaci della vallata dicono che hanno avuto rassicurazioni che questo succederà soltanto per questo periodo di emergenza e che poi l'ospedale riaprirà. La gente non se ne sta, e ha paura e la possiamo capire. Ha avviato una raccolta di firme, una raccolta di firme sulla piattaforma che si chiama Change.org e in due giorni ne hanno raccolte oltre 4.000 e continuano a crescere. Ecco, mi hanno voluto dire che a volte quando la gente fa sentire forte la sua voce poi viene ascoltata. Forse è il caso di farlo, ma davvero. E mi hanno voluto dire invece una cosa più leggera, ma che ci deve far riflettere anche quella. E forse l'avrete visto anche voi, quel video divertente di un cinghiale che se ne sta a spasso davanti all'entrata del porto antico nei pressi dell'acquario. Ecco, certo, il cinghiale sta tranquillo perché in questo momento la città è per fortuna semivuota perché i genovesi sono persone attente e non fanno da furbi. Ma chiediamoci anche questo. Ci sono degli spazi urbani che la natura tenderà a riprendersi, ma questo ci fa anche capire quanto la natura sia tutta intorno a noi. E allora quando le cose torneranno a essere normali, pensiamoci anche quale deve essere il nostro rapporto con la natura e anche con i cinghiali. Good morning, arrivederci.